Mi chiedi a me? Sono 18 anni. Ma hai capito che io faccio personal senza filtro? Ma lo vedi che fisico che ho? Vabbè, se lo dici te. Comunque nel dubbio, se mi dai un documento ti registro l'iluma. Ah, eh sì sì. Sì, ora te lo trovo subito. Te lo trovo subito, dai. Carta d'identità va bene? Sì sì, va benissimo la carta d'identità. L'importante è che non sia scaduta, visto che sei così grande. No 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 no, scade il prossimo anno. La registriamo. Nome, Natale, salva. Ti chiami Natale? Natale? Sì, mi chiamo Natale. Allora, se la mia mamma ha chiamato così è colpa mia. No no, che per l'amor del Dio. Ognuno sceglie il suo nome. Comunque, data di nascita, primo maggio 55. Che cazzo ha combinato quello? Scusa, ma hai 68 anni? E questo sei te? Sì. Non si vedi? Oh, fra, oh, fra, arriva la mamma. Oddio, la mamma, la mamma, la mamma, la mamma, la mamma.